Intanto diamo la parola a Benny Bertiglia a cui cedo il microfono e a cui consegniamo il premio Casa del Correto e il nostro sponsor ufficiale per il premio Migliore in Campo, te lo consegniamo, è una asciugamano tipica siciliana che potrai utilizzare tranquillamente, Benny oggi sei stata stratosferica, lo dicevamo in telecronica, forte in tutti i fondamentali abbiamo visto fare punti in battuta, in palletta, in schiacciata, mancava il punto in baga Quello oggi insomma Insomma abbiamo visto la vera Benny Bertiglia, forse non la vedavamo da tanto tempo Eh sì, sì, secondo me sì E allora per quanto riguarda, parliamo un po' del campionato, siete partiti senza il primo momento anche se il pronostico vi dava leggermente dietro l'Aragona voi invece in campo avete voluto dimostrare che siete una spanna avanti avendo vinto fino adesso tutte le partite e quindi questa squadra che proprio a livello mentale sembra voler acchiapparsi tutto Sì, stiamo lavorando, abbiamo lavorato dall'inizio molto bene e sì, ci vedevano magari dietro l'Aragona però abbiamo dimostrato che sappiamo fare molto bene possiamo fare molto bene questo campionato, non dico altro però Ancora è presto per parlare, però sicuramente è una squadra che ha cominciato nel migliore dei voti Ecco ti vediamo molto determinata ti conoscevamo in attacco e negli altri fondamentali ma ti abbiamo visto tanto migliorata in difesa, sei andata a recuperare dei palloni certe volte è impossibile un futuro da libero Sì, sì, è il mio sogno No, è divertente difendere quindi anche se magari non sono tecnicamente perfetta mi butto e poi vada come vada Ecco tu sei uno dei simboli di questa squadra con tante giocatrici che hanno voluto sposare il credo della Mandovolle rimanendo in una categoria che non gli compete perché sicuramente per te la B2 è molto stretta potresti giocare in campionati più importanti sicuramente che cos'è per te la Mandovolle al di là della squadra che scende in campo? Beh, l'ho detto già anche l'anno scorso quando sono scesa io qua mi sento a casa e mi trovo molto bene qua e lo rifarei mille volte anche se è una B2 assolutamente anzi, ci divertiamo e diamo il massimo E con questa battuta concludiamo ringraziamo Benny Bertiglia complimenti ancora grazie mille ti consegniamo il premio Casa del Corredo grazie